Welcome to MiroTV ragazzi sono i compagnati E siamo qui a parlarvi dell'ultima puntata di Smackdown Live Ragazzuoli mi viene da dire che il prodotto dello show blu mi è sembrato un pochino in rialzo Assolutamente Beh ci voleva poco di versare i prodotti rispetto a settimana scorsa Soprattutto rispetto a settimana scorsa su questo siamo assolutamente d'accordo Non c'è stata la mano di Eric Bischoff che comincerà a operare da direttore esecutivo Mi stavo quasi strozzando però Inizierà a operare da direttore esecutivo da dopo Extreme Rules Sì dalla puntata dopo Extreme Rules Scelta che più o meno condivido perché un conto Eman che stava sempre comunque lì nel backstage Sapeva cosa succedeva Un conto mentre Eric Bischoff a freddo lì vicino a Vince McMahon nella gorilla position Non so cosa sarebbe successo Vabbè lasciamo stare Detto questo ragazzoli parliamo dell'ultima puntata E partiamo dall'inizio Da uno dei segmenti che a me è piaciuto di più Anzi forse il segmento a me è piaciuto di più però Kevin Owens Show signori Kevin Owens Show È tornato a fare il giochetto con le schede Che non si ricorda i nomi The best in the world The Undertaker Cioè cavolo lo sai chi si chiama Undertaker Che fa questo giochetto? Fa ridere È bellissimo Kevin Owens continua a dire che è uno di quegli atleti che come lo metti sta da face sta bene Da heel sta benissimo Ha fatto un segmento della Madonna Insieme a Shane McMahon e Drew McIntyre Che l'ha perculati dall'inizio alla fine ma in modo intelligente Ha detto quello che tutti noi del WWE Universe abbiamo visto a Raw Sì ma praticamente sì ma anche ripetuto le parole che ho detto io nell'ultimo commento di Raw Drew McIntyre si è confermato con Little Dog Perché dopo è fatto le peggio promesse Cosa che ha rifatto anche qui a SmackDown Live Se è dato Se è dato È scappato proprio insieme a Shane McMahon Se è ritirato ad attaccare il Deadman In un 2 contro 1 Undertaker che ha 57 54 anni Quanti cazzo c'è in Undertaker Lo chiamano Lo chiamano Nonno Taker Però appena arriva Scappate E questo giustamente che vieno come sarà rimarcato su sta cosa Sull'essere un pochino codardo Da parte non solo di Shane Ma anche del Little Dog A proposito di Little Dog Ma che cazzo è il Big Dog? Signori Ma sta in vacanza È venuta una vacanza Ma qualche cosa con Vince Perché da che era ovunque Però infatti lo trovavi anche in bagno di casa Aprivi e c'era Reigns dentro Vince l'ha fatto sparire Quante è? Sono quattro puntate È incredibile Signori È la quarta puntata di SmackDown Che non si presenta a Roma Reigns Anche a Raw Non si è presentato mica Ma è vero È vero Sono un po' incuriosito La gestione del Big Dog Ma rimaniamo su questo segmento qui ragazzuoli Perché Kevin Owens Dopo aver demolito Secondo me I poveri Shane and Drew Che sta settimana Sono forse i peggiori Peggiori Ma trovo a livello qualitativo È arrivato Si presenta Dolph Seag Il mio Meraviglioso Dolph Seag Quello che sto elogiando Da tanto E poi insomma Sulle sconfitto Un po' sottornato Perché non se lo meritavo Eccetera Ha perculato Anche Dolph Seag Ragazzi Un Kevin Owens Unstoppable Li ha demoliti Tutti Li ha messo davanti agli occhi La realtà Che hanno solo fatto figure di merda Sostanzialmente Ma Cioè ragazzi Che li vogliamo dire a questo segmento Che cosa È fattuare E ci sono i miei C'è il video E di due Che è qua E là E su E giù Ragazzi Dovevi essere te Vi hai detto Dovevi essere te anche Otto anni fa E non lo sei stato Quindi ragazzuoli Lasciatemi dire Che Kevin Owens Non è che ci voleva il Menevent Per capire Che stessero trattando Per lui Un nuovo Babyface Un ritorno Da essere Babyface Quindi il turn Secondo me È compiuto Kevin Owens È praticamente Ripassato Dalla parte Di buoni Nel Menevent Abbiamo avuto la conferma Ok Lasciatemi Il video Kevin Owens È una di quelle Personalità Che come la metti Sta Quindi se lo turni Tre volte a settimana Funziona lo stesso Perché sa farsi odiare Sa farsi acclamare E quindi ripeto È un jolly È esattamente un jolly Kevin Owens Come ti serve E tac Lo fai Poi a qualcuno Non piaceva Quel Kevin Owens face Ma mi viene da dire Che Da Hill Non è che Piacesse molto Magari da me Si riesce a vincere qualcosa Nella vita Per come veniva trattato Ragazzi Da Hill Meglio 100 volte Vederlo da face Scusate Detto questo Poi dobbiamo dire Che Shane McMahon Ha fatto un annuncio Ovvero che Qualora Dove Ziegler E Kevin Owens Che si stavano Praticamente sfidando Per una futura Data Shot Qualora questi due Avessero battuto Nel Menevent Gli Machinery Si sarebbero aggiunti Ai New Day Daniel Bryan E Rowan Extreme Rules Quindi sarebbe diventato Quel famoso Triple treat Tactic match Che sponsorizzavo io Settimana scorsa Alla fine Si farà Si farà Però Ci arriviamo dopo Col Menevent Detto questo Ragazzone Andiamo avanti E parliamo della sfida Tra Big E E Daniel Bryan Una sfida molto veloce Che mi sembra più che altro Una contesa simpatica Non nulla di più Potevano fare molto Molto I più due atleti Li conosciamo Ma finalmente Almeno Daniel Bryan Ha vinto Cioè Gli serviva Una vittoria Sti poracci Prima di arrivare A Extreme Rules Perché fino adesso Avevano fatto solo Contese di merda Cioè Pin su pin Sconfitte su sconfitte Gli serviva Pure se è stato Qualcosa da copione Cioè Tata Tata Pin Gli serviva Però signori I New Day Storali a perde Dopo che non perdevano Non perdevano sia I New Day Sia Coffee Kingston Non perdeva nessuno Da quando ha perso Coffee Kingston A RU A RU Hanno perso pure I New Day A SmackDown Però sinceramente Io ci passo sopra Va bene Perché ripeto Stodiane Bryan Non c'aveva credibilità Non vinceva niente Ma niente Contesa breve Giusta Piccola vittoria per loro Se presentano A Extreme Rules Con minimo di vittoria In giro di 48 ore Ragazzi I New Day Ha quindi perso due match Ma secondo me Ci sta Ci sta perché Non è che possono Vincere sempre questi Se no a parte odiarli Vai a fossare anche Chi hanno davanti Anche Al preview Hanno perso I New Day Cioè stavano a fare Stricche Sì Beh definisci a Big E Xaver Woods Ovviamente Sì ok Però qua A parte che non so Con quale credibilità Gli hanno dato La Dato Shot E continuo a dirlo Forse è che sono Io quella l'ho bocciata Ormai gliel'ho notata Quindi Dobbiamo venercela Perché sono I New Day Ripeto io sono contrario A questa Dato Shot Ma ormai Ce l'abbiamo È stata sancita Lasciamoci il passato Alle spalle E vediamo come Li costruiscono Per fortuna Non viene da dire Per fortuna Che hanno aggiunto Un terzo team Se no avrei davvero Scabocciato Perché l'avevo promesso Invece mi hanno ascoltato Hanno ascoltato il video di Miro E l'hanno aggiunto Con un doppio Con un doppio scopo Sia aggiungere Il tag team In modo sensato All'interno Del Trematit Sia si sono giocati Il turno di Owens Quindi Poi ci arriviamo Voglio aggiungere anche Un'altra cosa Su questo C'è stato un promo Di Artruth Che me lo sono segnato Semplicemente ragazzi Che non sono stati I segmenti Il 247 Andava a riparlare A differenza Della W Noi ci teniamo A valorizzare i titoli Ciao Pinball Attiviamo bene E Lasciatemi dire Che questo Artruth Brama Di rivincita Riguole il suo baby Il suo titolo Do sta Pinball Vabbè Riguole si Il suo titolo Però niente Maverick Stai luna di mie Ha fatto sweet Ballor Quello è giusto Peggio di noi Da solo Ti ho fatto da solo Ho evidenziato Perché comunque Si vede che ci tengono Tanto a sto 247 Champion Ma altri Non ci tengono Per un cazzo Manco un piccolo Cioè È clamoroso Quello che io dico Da anni A questa parte Da quando è uscito Questo 247 Adesso Che è uno dei titoli Che lo stanno Meglio gestendo Della WWE E questo Continuerò a dirlo Perché sfido a dire Il contrario Cioè il 247 È gestito male No È una delle cose Che funziona meglio Da quando è uscito A questa parte No Cioè funziona meglio Delle storyline Per i titoli minori E delle stesse storyline Per i titoli massimi Cioè adesso sta funzionando Più o meno Quella di Seth Rollins Becky Lynch Anche se sta Becky Lynch Quella di Kofi Kingston Era gestita A cazzo di cane Perché stava Asfaltando tutti quanti Balor è sparito E sta muo a Joe Fino a settimana Sì no Settimana scorsa Che c'aveva il titolo No Fino a settimana scorsa Due o due settimane fa Due o due settimane fa Che c'aveva il titolo Cioè era Era il nulla Lo affossava Era il nulla Totale Adesso si sta rialzando Joe affossava Il titolo Degli Stati Uniti E adesso riesce In due puntate A questa parte Con la contesa Di Rico Shades e Siles Si sta rialzando Ma adesso Il 24 7 Ha funzionato Dall'inizio Ad adesso Assolutamente si E che clamoroso Ci siamo scordati Pure di menzionare Un altro titolo Che è sparito Quello delle Iconics Cazzo stanno Cioè Hanno perso in Giappone Hanno dato la title shot Alle Kabuki Warriors Ma Mai comparse Le Kabuki Warriors On screen Sennò quella cosa Iconic Era molto imbarazzante Iconics Parita Almeno prima Faceva degli interventi Durante gli altri match Cioè se le sono dimenticate E hanno detto Ma questo è un titolo No Non ce l'ho Chi mi dice Guardate che le Iconics Sono comparsi Durante il commercial break Dero ragazzi Mi bastano a tutti quanti Sì Il segmento con Bayley È stato secondo me È stata bella Molto bella Finalmente Cazzo Bayley Mi ha convinto In questi moment of bliss Sarà perché non c'è stava Alexa Mi niente da dire Ma Perché Bayley Almeno ha avuto sempre La risposta pronta Ha fatto anche notare A Nikki Ha cercato di svegliarla Come è sembrato Annambelli Molto più convincente Al microfono Che c'era Intenzione Di svegliare Chi ci avesse De fronte Io Starco ancora Il naso Sì Magari gioverà Non gioverà Le porterà Al 91 Però il fatto è Che la Nikki Cross Di NXT Per ora non esiste Adesso se poi Si sveglia SummerSlam Va bene Però sostanzialmente Quello che poi Ho recriminato Alla storyline È che Ci stanno le Iconic Avete fatto Sti cazzo Di tag team Femminili No Non ci stanno team Quelli che ci stanno O l'avete separati O li state costruendo E poi l'avete messi contro Di NXT Cross Alexa Bliss Quindi che cazzo Volemo fare Cioè io la boccio A prescindere Sto storyline Perché Venivano costruite Come team E come team Dovevano andare Perché le Iconic Stanno a zappare la vigna Perché adesso Mi devi fare La storyline Che è anche carina È gestita bene Perché l'esame di Dio Nikki Cross Me la è snaturata E va bene Ci passo sopra Però dovevano essere in team Non me le puoi costruire A SummerSlam Contro Non puoi Perché quell'altra Non c'hanno Non c'hanno avversario Le Kabuki Warriors Bene Dove cazzo sono? Poi tolte Le Kabuki Warriors Mandy Rose e Sonia Che cazzo stanno facendo Le storyline minori Prima con Nomi Moco Emer Moon Con Carmella Ma stanno costruendo Stanno venendo costruite Come team No C'avevi Alexa e Nikki No Contro Dobbiamo mandare Io la boccio con questo Hai fatto giustamente Il tuo punto In parte lo condivido anche Ma io ripeto Però continuo a dire Che tutta sta storia Servo a Nikki Cross Che fino alla settimana Prima di Money in the Bank Rischiava quasi Di essere Soltanto una presenza Lì sul Davide.com Sì L'hanno draftata Rob Basta Sì Però ecco Ripeto A me La storyline è pure carina Ragazzi Lo ammetto che è carina È strutturata anche molto bene Ma c'è pure Alexa Bliss dietro Che è difficile Che Alexa Balli con i promo E quando tu Stai messa bene con i promo Che metti le toppe nei promo Stai a metà dell'opera Stai a metà dell'opera È già fatto Insomma Però ecco Ripeto Proprio il concetto dietro Di mandare queste due date contro Quando potevi Costruirle come team Priscia che ormai Sti cazzo di tag team Non volevo Secondo me Una stronzata Si è rivelato giusto Perché una stronzata Non costruiscono niente Per questi tag team È sbagliata di fondo Ormai l'hanno fatta E la stanno portando avanti bene Ma l'idea di fondo Di metterle contro È sbagliata Poi se a Sample Se non fanno contro E si abbracci E fanno contro Il tigolo delle coloniche No Stai a vedere Stavo pensando Bailey qua Ha battuto Nicky Cross E ora che succede Perché Alexa Bliss Non si è fatta comunque vedere Chissà come lo racconteranno Sto snodon a radio qua Però Sono contento Ragazzi Anche un po' per Bailey Bailey batte Nicky Cross In maniera Importante Non lo fa di rapina Come ha fatto Nicky L'ha fatto proprio Con la sua finisher Il match è stato Secondo me Buono per essere comunque Settimanale Ragazzi vi ripeto Quando ci sono stati match Settimanali È difficile Oddio Che hanno combinato Però Secondo me È stata una puntesa Valida Valida per essere Una puntata di Smackdown Live Andiamo avanti Perché poi c'è stato Il promo di Ali Non so perché io Abbia scritto promo Da lì Perché vogliono parlarne Ah perché forse Ma ha rotto Ma ha rotto i coglioni Pure lui Forse volevo dirvi Ha rotto i coglioni Perché stanno iniziando A costruire tutta sta gente Con questi promo qua Poi alla fine però ragazzi Quanto tocca aspettare Per vedere Quello che vuole Ali Davvero Che Ali parla Di Tato Shot Ragazzi Stiamo a fare Il promo Con il cellulare Ma pure Ma pure se ci fosse Il miglior Sceneggiatore dietro Ma Black Dopo Benjamin Quell'altro Ali Brae Wyatt stesso Brae Wyatt Tutti che fanno Ste promesse Tutti che c'hanno Sta presentazione Poi Ali Sono un mese Che combattene In Dark Match Ali È un mese Buddy Murphy Non ha mai Debuttato Non su YouTube Grazie YouTube Grazie YouTube Ragazzi Un po' Dico sì Ok Sembra che Siano Qualcosa Però Aspetta Aspetta Uno Aspetta Quell'altro Ma pure Balor Fino a Prima De Faceva i match I segmenti Col cellulare Addirittura è sparito Cioè Manco più quelli Manco più quelli Cioè Dopo un po' Stanco Si vabbè Uno Due Ma poi Non me lo puoi Riproporre tutte le settimane A sta cosa Del video E poi Più che altro Quando sai Che Ali Combatte sempre In Dark Match Capisci un po' Dei cose Detto questo Andiamo avanti Ragazzi Non so Fermiamoci qui E parliamo Di un altro segmento Che a me È piaciuto davvero tanto Ho detto Due segmenti Mi sono piaciuti Tantissimo Nesta puntata E secondo me L'hanno salvata Per questo I due segmenti Che sono saluti Uno all'inizio E uno A metà puntata Quello tra Coffee Kingston E Samajor Vi dico Vi dico O Coffee Kingston Ha visto tutti i nostri video Oppure la WWE Si accorta Ha visto i nostri video No Oppure la WWE Si accorta Che Samajor Se tu fai Due tre calcoli È un personaggio Che non merita Minimamente Narello shot Al titolo WWE Io non so Perché abbiano fatto Sto segmento Però mi viene da dire Peo Personalmente parlando Che Coffee Kingston Aveva ragione Su ogni punto Che lui ha sviluppato Coffee Kingston Su quei punti Ha distrutto Secondo me Samajor Si signori Fondamentalmente Coffee Kingston Ha visto quello Che diciamo Da mesi Sulla gestione Di Samajor Gli ha rimarcato Punto per punto Cosa lui non ha fatto Durante questi veci Tutti i suoi fallimenti Tutte le sue promesse Non mantenute Quindi sta title shot No Poi Joe Si è messo Si è messo Nei guai da solo Perché poi Tutti questi Ci ha provato Tutti questi Che attaccano Coffee Kingston Tu non hai mai battuto Nessuna maniera Non è vero Perché Daniel Bryan Ha battuto Non lo devo fare Io il promo Per Coffee Insomma Joe ha fatto Una figura De merda Io basta Joe non so Con quale Credibilà Frontera Acqua finis Ok L'ha battuta Rola È riuscito A addormentarlo Ok Quello Ci sta A meno Quello Grazie a Dio Se sono corti Che serviva Una cosa del genere Io ho detto Nel video Ah Stanno tentando Di dare Un minimo Un minimo Barlume Di credibilità Con il fatto Che l'ha addormentato Con sta coclina Che fino alla puntata Prima Manco sulle mosche Ma sto Barlume Sto Barlume Gliel'hanno sbattuto In faccia Due volte Nella puntata Di Smackdown Una volta Con il promo E la seconda E la seconda Col triple paradise Gli hanno sbattuto In faccia Due volte Sto Barlume Io Prima gli hanno dato Un minimo di Barlume Senza senso Perché lui ha sempre perso Non ha mai fatto Tutte queste grandi vittorie Se non perché Gli avversari Erano Tipo Drogati Oppure Perché erano Infortunati Allora Lì ha fatto La grande vittoria Se no Le vittorie Insomma E arrivate Per Stammo Giù Hanno dato Questo Barlume Dopo che Kofi Kingston Non perdeva Mai Dalla Presselmania L'altro giorno Non perdeva Mai Kofi Kingston Ma così Gli sparavano Quello Si rialzava Gli hanno dato Sto Barlume Con la coclina Glaccia Che non ha mai Funzionato Da quando Il titolo Da quanto È Campione Di lista Non è funzionato Ha funzionato Con Kofi Vabbè Per quale motivo Gli danno Un minimo Di credibilità E con il suo promo L'hanno asfaltato Cioè Barlume E poi no Perché Si sbattono In faccia Tutto quello Che non ha fatto Siamo a gioia E io tipo Ok però Kofi Mi ti chiedo Che poi L'ha pure Mandata a fanculo Sì Poco PG Che è successo Ma che sta succedendo La WWE Allora A Corey Grills E a Rose È uscito Con Holly Sheet Poco dopo Ci sta il promo Di No questo Non l'abbiamo scritto Bobby Lashley Il promo di Bobby Lashley Dove di dare il filo Della mignotta A Braun Strow Come cazzo ti permetti Kofi Kikson Che fa così Che poi L'hanno censurato Fino alla vera Sì Con la faccia Di cosa Poi non si capiva Che cazzo Che Kofi Ride Se vede solo lui Che fa così Poi abbiamo piano Hanno spostato La videocamera Una fraccia di secondo Si è visto Che Kofi Kikson Stai facendo Sto dito a medio Che tra l'altro Mi ricordo Lo fece qualche Anno fa Randy Orton Censurato In maniera incredibile Il dito a medio Mi metto nei panni Mi metto nei panni Di Samuaggio Nei scusate Nei panni di fan Di Samuaggio E dico Sta puntata È stata una merda Perché mi hanno sbattuto Non faccia La verità De Joe Andiamo avanti Come fai a difenderlo Cioè come A me piace Samuaggio Poi io Poi tutti mi diranno Perché a te ti fa schifo Samuaggio Mi insulti sempre Raga a me Mi piace Samuaggio Ho sempre detto Che è un sentito Straordinario È grosso E riesce a volare È un'agilità Della madonna Però Vedo la puntata E dico Lo gestiscono male Non c'è credibilità Perché continuano A puntarci E oggi L'hanno pure distrutto Non ha senso Questo Samuaggio Ma è bellissimo Il Gelos Joe Indetto Da Coffee Kingston Racchiude tantissime cose Davvero pare Essere geloso Joe Perché poi Deva sempre attaccare Pure la famiglia Quello che hai fatto tu Quando tu E gli ha pure detto questo Cioè gli ho sbattuto E mi faccia E bravo Adesso continui Ricomincia ad attaccare La mia famiglia I miei bambini Cioè gli ha detto Tutto Coffee Coffee l'ha distrutto Gli ha detto tutto Non l'ha salvato Da nessuna parte Ha detto Tutte le cazzate Che ha fatto Da una macchina E l'ha sbattuta In faccia a tutte E Joe muto Andiamo avanti Come cazzo Contrabbatti Ho preso anche Un tributo Adesso andiamo avanti Perché qua Voglio cercare Di capire una cosa Io Settimana scorsa Dicevamo Eh forse si sono dimenticata Arrivedata Andare da pollo Settimana successiva Fanno finalmente Stava contesa Che aspettavamo davvero tanto Stavamo Dio Guarda la fanno Faccio un posto Sui social Mamma mia Madonna Se non mi danno pollo Contra andrate A me Mi viene da pensare Che andrate Contra pollo Abbia tolto Del minutaggio A valore Nakamura Io ce lo stavo a chiedere Ora spiegami Cerca di spiegarmi In parole povere Perché devono fare Una cosa del genere Una rivalità Tra pollo E andrate Non penso a tiri nessuno Soprattutto perché Apollo Non ha abilità carismatiche Poi su ring Sono tutti e due Bravissimi Andrate molto di più Ma pure Apollo Secondo me Un ottimo atleta All'interno del quadrato E ce lo dimostra Con manovre Con manovre Il problema È il mix skills Il mix skills Di Apollo Che è quello che è Ma anche il suo Secondo me Le sue espressioni facciali Non sono il massimo Mentre dall'altra parte C'è andrate Con un ottimo performance Più Zalina Vega Che qua Risulta essere addirittura Decisiva Perché andrate Non riesce a battare A bollo da solo Ha bisogno di Giustamente Zalina Vega Che fa il carano Dopo il carano Alla gente E poi ne approfitta Andrate Fa la sua finish 1, 2, 3 Andrate a battare a bollo Però io ce l'ho Perché hanno fatto questo match Perché? Perché se avete notato bene E bisognava notarlo Con occhi acuti Apollo Ha cambiato Il taglio della barba Quindi dovevano presentarti Il taglio nuovo Della barba di a bollo Tutto questo l'ha notato Quando io ho notato Invece Abide The witch Abide witch Che è apparsa Durante la camminata Da voi Io ho detto Guarda che ci abide Questo c'è Abide Perché le vere donne Vanno a vedere Il taglio dei capelli Il taglio da barbetta Il taglio dei capelli Da bollo E lì era clamoroso Che si era fatto Sti baffetti Oribili Terribile Quindi era rimasta Catturata Da questo taglio di baffi Terribile di a bollo Togli deli tesoro mio Togli deli A bollo c'ha più abilità Al microfono Che capelli in testa Ho detto tutto Ho detto questo Andiamo avanti Perché Però c'è uno che c'ha ancora più abilità Non lo dire Andiamo avanti Andiamo avanti Abbiamo anche detto Di abbi The witch Andiamo avanti Ember moon Contro Mandy rose Dai sito Finalmente Ember moon Ha vinto Una pora contesa Tre minuti di match Due manovre Di ember moon Finisher A casa Nessuno se l'ha in culo Cioè Ragazzi Ha fatto Sì ho vinto Se ne è andata in backstage Un quarto d'ora Le telecamere Con la team di ember moon Inquadravano Sonia E me A me sta cosa Mi fa girare il cazzo Cioè Ma dove vogliono arrivare Non capisco Surclassata Così ember moon Io non ci posso credere Allora a parte che Mandy non ha fatto Mezza mossa Non ha fatto mezza mossa Cioè Dominazione totale Di ember moon Ha fatto vedere In tre secondi Il suo atletismo Quanto è brava Finisher Vince E i cameraman Vanno a fare i zoom Su Sonia Vince Fa sì Io ho vinto Mentre tornare E zoom su Mandy Sì ho vinto Zoom su Mandy A testimonianza Del fatto Ragazzi Che sono pronti A fare Quello che vi ho detto Settimana scorsa Sì ma povera Ember moon Ma dove vogliono arrivare Però Perché prima Ember moon Era nel backstage Arriva Carmella Le fa l'occhiolino La quando rompe Sì ma poi Ora che ha vinto Ember moon Che si fa No ma ripeto Ember moon vince E poi danno comunque Più importanza A Mandy e Sonia Poi è riuscita A vincere Perché in quei Tre minuti De match Sonia non ha fatto niente Cioè mentre Mandy Rompeva il cazzo Durante il match Di Sonia Ember moon Sonia stava così Allora Mandy ha perso Quindi ci stanno Sempre raccontando Che Mandy e Sonia Se una Non aiuta l'altra Perde tutti i match Se invece si aiutano Non riescono a vincere Wow Grande credibilità Signore Però cioè Ripeto Io Sember moon Non capisco Cioè Ha vinto Ha fatto La prima cosa giusta Finalmente L'hanno fatto fare La prima cosa giusta Dopo mesi E manca E manca Che erano Importante No E poi diamo Zoom 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 Ben Zoom Zoom Soia Lo sguardo Lo sguardo di Mandy Guarda 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 Dando un bacio Noia totale Secondo me Ember moon Dopo questa vittoria Resta comunque noia totale Andiamo avanti E ci sono le ultime due cose Che meritano un po' Di discussioni Un'intervistatrice Chiede a Shelton Benjamin Che ne pensi Chi vincerà il titolo Chi uscirà a campione WWE A Extreme Rules Copy Kingston O Samoa Joe Però anche la location Quel verde sparato Di Samoa Questo non mi interessa E' importante Il telone verde Di Shelton Perché che pensi Che ci sono Eh perché non era blu Non era nero Era verde Cioè capito L'hanno proprio messo lì Per far il segmento Di Benjamin Questo telone verde Secondo me E' molto importante Ma non trovo Non trovo collegamenti A questa cosa Signori ma davvero Vogliono farti svegliare Certo Allora tu dici questo Tu appena Eccoli Signor Benjamin Ma tardi sta per tornare Si sta per risvegliare Per lui Subito hai fatto 200 collegamenti In geniale Ma che chiedo Geniale Hai fatto 200 collegamenti In geniale Che si vanno a ricollegare A quello che è successo Mi sembra Il telone verde Il verde è il colore Della Usofardia Quello che è successo Però due settimane fa Che ma tardi Esce da Anche il trattoretto Di ma tardi No Non era vero Si era verde Adesta è buona Queste cazzate Più dubbio Ha pensato giustamente Sarebbe una cosa Incredibile Come tutte quelle pippe Mentali Che saranno fatti Sul fatto di pre Why a Teresa Black O è quella di Lesnar Che in casa Extreme rosa Combe di Lynch E lì Legata dai Ma secondo me Legata dai Ma secondo me Questo segmento È servito Secondo me Questo segmento È servito Per far venire Qualche dubbio più Su cosa potrebbe fare Ha scelto un Benjamin Niente come al solito È colui che vince Tutti i match Perché Sheldon È un sacco di tempo Che non perde Ogni tanto Quando fa un match Ah ha perso Contro Rollins Mi ricordo Ah vabbè Contro Rollins Cazzo Però ha vinto quasi Tutti i match Quando compare Però poi Non lo dimentico Dobbiamo fa un match Tacca ci metti Benjamin Fa il match D'Aramatonte Perché è bravissimo Ma tu non pensi Che potrebbe essere Un collegamento A Lesnar Ricordiamo che Paul Heyman L'ha preso sotto La sua ala L'ha preso sotto La sua ala Sheldon Benjamin Tra l'altro poi Sheldon Benjamin Ex partner Di Brock Lesnar Eccetera eccetera 200 cose Ci sarebbero a dire Però potrebbe essere Un collegamento A Lesnar Tutto questo Oppure un collegamento A Matardi Ma sarà un partner Sì Oppure non c'entra un cazzo No sarà l'avversario Di Black Però sì Cioè scusate Mi provo L'avversario di Black Sì aprirà lui la porta Ma batte Perché lui c'ha il tiro verde E Black c'ha quello vero Sembrava Bobby Lashley Ti sembrava che era confuso Allora Le cose su due Ho detto lì per lì O si è scordato il promo E quindi ho detto Fammi una faccia stupida E ci è riuscito Oppure io non so Cioè deve risvegliare Era posseduto Ma che è Ma io non ho mai visto Benjamin Così Si capisce che cazzo Non lo fa Vabbè Vabbè Chiudiamo Chiudiamo tutto quanto Con l'ultima considerazione Sul main event Gli Heavy Machinery Hanno battuto Kevin Owens E Dob Seeger E tralasciando il turn Che ne abbiamo abbastanza parlato Di Kevin Owens Mi lasci dire Che la vittoria di Heavy Machinery È stata sorprendente Perché è stata davvero pesante Con la loro finisher Su Kevin Owens Vabbè Aveva pure Incazzata Ma questi hanno vinto Un main event Di Smackdown Live Battendo due atleti straordinari Che nel loro palmera C'erano davvero C'erano davvero un sacco di roba Tra tutti e due C'erano davvero un sacco di roba Infatti l'hanno fatto anche notare Nell'intervista No I Machinery Sono stato molto sorpreso Perché l'hanno fatto nel main event Ora non dico Che li do come vincitori Di pronostici Perché manca ancora una puntata Se non me sbaglio Però Cazzarolla Non me lo aspettavo Sinceramente Non me lo aspettavo Che ti dessero Un momento così importante Nel main event Una vittoria così sonora Su quei due Poi adesso Vuoi aggiungere qualcosa No Volevo aggiungere Vedete questo match E vedete quello che hanno fatto Al pay per view Che tutti hanno detto Ah che schifo di match Che hanno fatto gli I Machinery Ah che schifo gli I Machinery Hanno fatto lo stesso identico match Perché quelli sono gli I Machinery Però qui Avevano il pubblico Che rispondeva Molto ore più lì A livello di lottata Vabbè Quello è pure un pay per view Insomma Però Se voi li mettete A confronto Qui Gli I Machinery Hanno funzionato meglio Dell'altro match Nonostante che l'altro match Fosse leggermente migliore Perché il pubblico di là Non li seguì Quindi adesso Tutti quelli che Oh che schifo gli I Machinery Mi fanno schifo sul ring Venitemelo a di adesso Venitemelo a di adesso Che non c'entra il pubblico Durante i match Il pubblico è fondamentale Durante i match Specialmente Con personalità Come Odis Dozovic E Tiger Knight Tra l'altro Tiger Mi sta anche sorprendendo È bravo È bravo Vabbè Odis viene di più Perché c'ha Sta cosa un po' orzettosa Sta palletta Farcate il pillar Cioè è un po' quello che Eppure a livello di mixed skills C'ha qualcosa in più Perché ti intrattene Di quelle espressioni Ma avete visto quanto cazzo Lola parla durante il match Oh yeah Cioè poi c'ha Quell'aggetto strano Però Tiger è bravissimo Cioè è grosso Eppure Fatima Un solt Bola Cioè è bravo Sono bravi Sono bravi E adesso voglio davvero Riprendere tutte quelle persone Che sono andate Ad insultarli Durante il match Al pay per view In Arabia Perché c'era pubblico Che Dio solo sa Tifava Brian Giocava in casa Brian Ecco perché Sì Sono d'accordo Perché ho detto Una rabbia No perché stiamo No perché già pensiamo Alla rabbia Eh lasciamo Lasciamo stare questo Ultime parole su Kane Owens Turn phase Completato Perché Ziglar Si va incazzare un pochino Due puntate e due turni Molto importanti Stiamo aggiustando le cose Molto molto importanti Stiamo aggiustando le cose Perché Vi ripeto Owens doveva essere phase Non doveva mai Turnare nuovamente il La David Avery Ha raddrizzato il tiro Con di lui E secondo me Owens phase Può servire a Smackdown Live Non so Se per i titoli Questo C'ho questo gran dubbio Perché come stanno Trattando Balor Devo un attimo Ricostruire Viene tante sconfitte Dai buone striline Miglior Minori Fallo vincere un paio di anni Quindi storia Con Ziglar Non so quanto Ziglar possa Rimanendo Davide Noi non ho ancora Toonkone Vedi ah Fino settembre No Sta presenziando Ogni settimana Vero Non lo so Però ecco Da un'altra sconfitta Adolfo No Però tu devi decidere La devi decidere Owens o Ziglar No È come se mi dici Pizza o patatine fritte Io Io continuo a dire Che Ziglar Si sta riproponendo Per far parlare Ancora più di sé Per vendere ancora di più Il tour comedy Quindi do la vittoria A Owens Qualora si processe Sto match E sto contento Perché potrebbe essere Un'ottima storyline Sicuramente migliore Lasciami dire Di andrade Contra pollo Spero che la W Abbia pensato a questo Non credo che Owens possa andare Subito per i titoli Perché poi Ragazzi abbiamo visto Il problema Che c'è attualmente In W Non sanno gestire La montagna di SmackDown E ficarci Tutti i titoli Io Owens Ballard Però non ci metterei Quando potrebbero farlo Owens Ballard Io una firmetta Però ci metterei Tutte e due Face però Con l'Owens Face Questo stronzo Che gli va Di a ballare Ma dove cazzo sei? Che cazzo sai a fa? Staremo a vedere Staremo a vedere Però mi raccomando Voi spolliciate Commentate Condividete Iscrivetevi Ai canali Eh no Perché pensavo Che fosse uscivato qualcosa Pensavo che il telefono Dove non essere ancora fatto Da Penne di cream Outward E da Mira è tutto Too sweet Qua spaccherò tutto Too sweet